Ciao a tutti ragazzi, sono Palazzo 2030 e oggi c'è un nuovo video Oggi vi figurò come creare un intro per telefono per Android, allora cosa dovete fare, dovete scaricare a remoto da Play Store, è gratuito, poi vi apparirà questa schermata, no questa, aiuto, continuo, ok, vi apparirà questa schermata, voi cosa dovete fare, dovete cliccare la matita, poi dopo voi dovete fare quello che volete, tipo io faccio change style, cioè qualsiasi cosa Tipo questa qui dell'autunno Dopo che l'ho creata, selezioniamo una canzone Tipo My Music, We Shall Go, Zoom Dog Il volume è troppo alto, sono un cretino A parte questa, facciamo, aggiungi foto Allora Vabbè, aggiungite quello che volete Io aggiungo Boh, tipo delle foto a caso Foto a caso, eh Ok, dopo queste foto Aggiungiamo un testo Fatevi Fare Icon Semplici Una cosa semplice Dopodiché cliccate qua sul coso L'ultimo a destra Non so come, non so come dirlo E qua vi farà il coso, il video Voi mettete il titolo Tipo io scrivo intro Sì, vabbè, non so più scrivere Intro Mi Si può fare Bussiamo il volume Ok Come vedete Dopo averla creata Vi spunterà questo, così Ebbene ragazzi Dopodiché Fatevi fare con Dopodiché Andate qui Premete qui in alto L'unica con In alto che vi spunta E dopodiché Aspettate che vi carichi Aspettate Aspettate che vi carichi Dopodiché Vi crea la intro Bene ragazzi Tutto E noi ci rivediamo A un prossimo video Ciao Ciao